Questo martedì 18 aprile siete su prima pagina e in primo piano il problema, la questione, l'emergenza. Sono tanti i termini usati per i migranti. Sicuramente c'è una questione da risolvere. L'Italia chiede aiuto all'Europa, un aiuto che non arriva mai nei termini richiesti dal nostro Paese, ma intanto ci sarà un decreto, un nuovo decreto in Senato. Arriverà al Senato oggi pomeriggio il decreto sulla gestione dei flussi migratori senza il via libera della Commissione Affari Costituzionali. È l'esito dell'ostruzionismo dell'opposizione che ha cercato con ripetuti interventi di far passare le proprie proposte di modifica, circa 300, senza riuscirvi. La partita si riaprirà in aula con la maggioranza che ha trovato l'accordo sul testo che stringe ulteriormente le maglie per la protezione speciale. Restano le critiche degli amministratori locali del centro-sinistra, governatori e sindaci delle grandi città che protestano contro lo stato di emergenza e la nomina del commissario straordinario Valenti. Proprio oggi il commissario per l'emergenza sarà a Lampedusa per coordinare le attività volte all'ampliamento della capacità del sistema di accoglienza dei migranti.